Grazie Federica, un saluto a tutti gli studenti, ai giovani, grazie per questo invito, sono contento di intervenire e di poter condividere con voi alcune riflessioni in un momento particolarmente difficile della vita dei nostri paesi, dei nostri cittadini. Abbiamo avuto un anno particolarmente intenso perché nessuno di noi avrebbe mai immaginato che il pianeta potesse fermarsi, non si sono fermati solo i nostri paesi, le nostre città, ma si è fermato l'intero pianeta e questo ha comportato delle scelte molto impegnative e soprattutto la definizione di alcune strategie da parte dell'Unione Europea per poter sostenere il peso della pandemia e della crisi che la pandemia ha scatenato. Noi siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti, stiamo assistendo ancora a una forte diffusione del virus, abbiamo predisposto alcune misure come le vaccinazioni, come la predisposizione di piani per sostenere l'economia in difficoltà, ma dobbiamo renderci conto che ancora siamo dentro la crisi e gli effetti di questa crisi non dureranno per breve tempo, ce li porteremo, saranno molto pesanti, vediamo le nostre economie soffrire particolarmente, e far emergere una questione sociale di primaria grandezza. Noi in questo momento siamo impegnati su due fronti. Il primo è naturalmente la pandemia, la risposta a questa gravissima crisi e nello stesso tempo fare in modo che la risposta alla crisi non allenti la nostra identità. L'abbiamo detto all'inizio della crisi, lo hanno detto tutte le istituzioni europee, parlando anche con una voce sola, cosa non frequente nel dibattito politico europeo, che questa crisi volevamo affrontarla con la democrazia, con i nostri valori, con il senso di una coerenza e di una trasparenza, che fanno dell'Unione Europea in questo momento un caso abbastanza unico nel mondo. Voi avete visto, avrete letto sui giornali, vi sarete confrontati. Abbiamo molte tendenze che pensano che l'autoritarismo sia più efficiente della democrazia. E tanti dibattiti che si sono sviluppati anche sulla pandemia, sulla crisi che la pandemia ha scatenato, sono andati in questa direzione. È più efficiente la democrazia o è più efficiente l'autoritarismo? Ecco, questo è un tema molto importante per noi. Perché? Perché se allentassimo la presa sui nostri valori, beh verrebbe a mancare la nostra identità. E questo dell'identità europea in questo momento è un tema particolarmente importante. Gli effetti globali anche che la pandemia ha scatenato ci mostrano che non solo la democrazia può essere più efficiente, perché le crisi si devono affrontare con trasparenza, ma nello stesso tempo perché in giro per il mondo un modello che tenga insieme valori fondamentali, come quello della difesa delle libertà, della difesa della dignità della persona, dei diritti fondamentali. Beh, è un modello che non troviamo spesso e di cui l'Europa può costituire un punto di riferimento anche per altri. Abbiamo una forte responsabilità, quella di coniugare la risposta alla crisi e la tenuta del nostro modello democratico. La crisi ci ha fatto emergere tante questioni, tanti problemi. Abbiamo capito che dobbiamo rinnovarci, che la democrazia è un sistema fragile che deve essere custodito con cura. Abbiamo iniziato questo anno tutti, probabilmente anche voi, con il naso all'insù, guardando nei telegiornali quello che avveniva al Campidoglio, negli Stati Uniti. Abbiamo avuto lo sguardo tutti rivolto agli avvenimenti di Washington. E che cosa abbiamo capito? Che dobbiamo avere degli anticorpi forti per difendere le nostre istituzioni e proteggere le nostre libertà. Abbiamo visto con piacere naturalmente che gli Stati Uniti hanno un sistema e anticorpi sufficienti a respingere quei tentativi, ma nello stesso tempo abbiamo capito che quella campana può suonare anche per noi. E questo ci riporta alla riflessione che un anno fa avevamo cominciato a fare tra Parlamento, Commissione e anche il Consiglio. Questa crisi vogliamo affrontarla rafforzando la nostra democrazia. Noi siamo stati particolarmente fortunati, non tutti forse se ne accorgono, anche nel dibattito pubblico nei nostri Paesi. Siamo stati un po' fortunati nell'arrivare alla crisi nel marzo scorso con una lettura della contemporaneità che ci ha dato dei punti fermi. Perché uscivamo dalla proposta che la Commissione aveva presentato in Parlamento e il Parlamento aveva accolto e migliorato sul Green Deal europeo. Quella è la lettura della contemporaneità che l'Europa propone. Salvare il pianeta, consentire alle donne e agli uomini di vivere meglio nel nostro pianeta. Non è soltanto un problema ecologico, è anche una grande questione economica e sociale. Con quella lettura e con quella proposta siamo arrivati al Covid e abbiamo avuto la fortuna proprio di avere quello strumento per poter cominciare a lavorare su strumenti che facessero convergere gli obiettivi di tutti. Oggi abbiamo messo in campo degli strumenti che consentono a tutti di far convergere i loro sforzi. Per fare cosa? Beh, per aiutare le nostre economie a riprendersi, ma anche all'Europa di diventare più forte. cosa significa più forte? Noi con il Covid abbiamo visto le tante lacune che si sono prodotte dagli effetti di scelte dei periodi precedenti. L'Europa è più fragile di prima perché è meno resiliente. Questo è un tema importante in questo momento che sentiamo molto. L'avrete visto anche nelle cose più semplici. Quante produzioni ci siamo accorti nel marzo scorso che avevamo lasciato andare via dallo spazio europeo. Quante produzioni per esempio a basso costo avevamo delegato a paesi in via di sviluppo o trasferito in altre zone del mondo. La resilienza è una premessa premessa per essere capaci di essere indipendenti e noi dobbiamo lavorare molto per la nostra autonomia e la nostra indipendenza. abbiamo abbiamo passato lo scorso anno a definire degli strumenti e abbiamo capito che possiamo avere politiche comuni di risposta alla crisi soprattutto facendo convergere come dicevo degli obiettivi comuni. però dobbiamo continuare a lavorare su due piani la risposta alla crisi e il rafforzamento della democrazia. All'inizio della legislatura nel un anno e mezzo fa circa avevamo indicato la necessità di perfezionare il nostro sistema democratico e di dar via una grande iniziativa come quella che Federica citava della conferenza sul futuro dell'Europa. Per fare cosa? Beh, innanzitutto per cominciare un dialogo vero con la società civile, con i cittadini, con le istituzioni nazionali di tutti e 27 paesi. Se dobbiamo trovare dei miglioramenti vogliamo trovarli insieme. vogliamo trovarli nel dialogo e nel confronto. Non vogliamo che calino dall'alto. Un'Europa più partecipata può partire da questo spirito. E la conferenza sul futuro dell'Europa può dare delle indicazioni molto importanti alla politica. naturalmente siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia e ne siamo consapevoli. Ma d'altronde questo anno l'abbiamo passato con la testa e il cuore impegnati nella risposta al Covid. Adesso siamo pronti e mi ha fatto piacere l'altra settimana incontrare il primo ministro portoghese Costa che ha assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea e sentire anche da lui la necessità di avviare al più presto questo processo. Cosa vuole essere? Vuole essere una tempesta che consente alle nostre cittadine e alle nostre cittadini di essere partecipi di una definizione di quella che dovrà essere l'Europa del futuro. di concentrarsi e di proporre modifiche alle nostre regole. Di mettere la società civile e l'idea di una partecipazione al centro della scena. Non vogliamo che Bruxelles e le sue istituzioni siano considerate lontane dalla vita. Dobbiamo fare in modo che Bruxelles e le sue istituzioni siano il terminale di una partecipazione che in questi anni abbiamo visto spegnersi e che ha anche mortificato le iniziative dell'Unione Europea. una stagione di dialogo, di confronto e di proposte. Con chi? Noi siamo convinti che se riusciremo a favorire questo dialogo e questo confronto potremo farlo a tutto tondo, con tanti ambienti. Penso alle reti delle nostre università, ai centri di ricerca, alle nostre associazioni dei cittadini, alle nostre organizzazioni non governative, ai parlamenti nazionali, ai partiti, ai sindacati. Questo è lo sviluppo di una conferenza che vuole animare il dibattito intorno a un futuro comune. Questo credo che sia molto importante soprattutto per dare il segno di un'Europa che vuole rafforzare la propria identità e aggiornare i propri meccanismi. Abbiamo visto all'inizio dell'anno, come dicevo, una grande democrazia esporre anche i suoi lati fragili. Mi ha fatto molto piacere che il Presidente Biden nel suo discorso inaugurale abbia usato le stesse espressioni che usiamo noi quando parliamo della democrazia come sistema fragile. Perché naturalmente l'autoritarismo è molto più forte, può essere più forte. Ma la democrazia è un sistema che deve essere la cui forza si aggiorna nel contesto, con il contesto. Pensate ad esempio a questo anno, alla vita anche delle nostre istituzioni, le tante regole che abbiamo dovuto modificare per non chiudere magari il Parlamento europeo e tenerlo aperto. Tenerlo aperto ha significato non bloccare la risposta europea, l'uso della tecnologia, l'uso dei nostri regolamenti. Ecco, credo che se vogliamo fare in modo che un sistema fragile come la democrazia sia ancora una risposta adeguata, dobbiamo cambiarne e dobbiamo soprattutto individuare quei cambiamenti che possono essere utili in questo momento. Penso che ci sia tanto lavoro da fare, che anche un collegio come il vostro possa essere utile a tutti noi. sentiamoci parte di un destino comune, sentiamoci impegnati a scrivere delle pagine bianche che dobbiamo scrivere noi e che non vogliamo che vengano scritte da nessun altro. Io ricordo quando è iniziata la nostra legislatura un anno e mezzo fa un'importante intervista del Presidente Putin a un giornale americano in cui sosteneva che i sistemi democratici ormai era chiaro che erano passati di moda. No, noi crediamo che non siano passati di moda e che la democrazia possa continuare a custodire le nostre libertà. e l'Europa da questo punto di vista è un caso davvero unico. Forse manchiamo un po' di orgoglio. Questo ci fa difetto. Credo che la conferenza sul futuro dell'Europa possa rialzare il livello del nostro orgoglio e rimettere anche al centro un progetto come quello europeo a cui tanti cittadini guardano con ammirazione fuori dallo spazio europeo. Quanti vorrebbero essere simili a noi? Noi non vogliamo imporre niente a nessuno sia chiaro però vogliamo essere fieri di questo percorso che in 70 anni ha consentito ai nostri paesi di trovare la pace e che forse oggi può consentire all'Europa di diventare un vero strumento di pace nel mondo. Ecco, credo che senza volere imporre niente a nessuno rispondere all'ammirazione di tanti rispetto a una costruzione europea così faticosa, così lenta ma anche così importante possa essere un esempio e possa costituire per noi anche il motore e la molla per continuare. Abbiamo bisogno di più Europa e credo che questo sia molto chiaro dall'anno così difficile che abbiamo passato. Grazie. 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 Grazie.